A me, personalmente, come attaccante, visto che vado sempre con molta velocità, mi fastidisce quel tipo di giocatore, insomma. Un po' stamai della situazione, diciamo. Attenzione, il nome italiano. Torna l'Extra Player, torna il podcast della Palamano Italiana e soprattutto della Palamano Azzurra. Nuovo extra player questa settimana, ve l'abbiamo svelato sul canale Instagram della Federazione e voi gli avete rivolto tante domande. E allora non perdiamo tempo, in collegamento dalla Germania abbiamo il centrale azzurro Simone Vengonna. Ciao Simo! Ciao Matteo, ciao a tutti! Come stai? Benone, benone. Oggi mattina sei tranquilla. Siccome so che tra qualche ora noi stiamo registrando di giovedì, venerdì sera giocherai in Bundesliga. Contro chi giochi? Giochiamo contro Wetzlar. E ti sono arrivate... partita importante, tra l'altro. È abbastanza, sì. Diciamo di etti concorrenti, quindi... Per la salvezza. Sì, per la salvezza e poi bisogna lanciarlo sto campionato. L'anno scorso eravate neopromossi, no? Con Aysenac. Tu stai giocando, sei al tuo secondo anno lì ad Aysenac e quest'anno sempre obiettivo salvezza. Voi tra l'altro avete in squadra anche Gurgic che ha fatto le Olimpiadi, no? Esatto, sì. Abbiamo giocare nella nazionale tedesca, sì. L'obiettivo che ci siamo fissati è fare meglio dell'anno scorso, certo. Poi, essendo realistici, ovviamente, la salvezza e poi fare un bel campionato, insomma. C'è tanta curiosità da parte dei fan italiani che ci seguono sui social rispetto a questa tua esperienza in Bundesliga. Tu sei al secondo anno in Bundesliga e così, leggendo, vale la pena ricordare questo dato perché tu e Leo Prantner l'anno scorso avete giocato in Bundesliga e siete arrivati temporalmente rispetto agli azzurri dopo Scatar, che è stato il primo in assoluto, e dopo Mimmo Ebner con un piccolo distinguo che voi siete i primi due di scuola completamente italiana da un punto di vista pallamanistico e questo è sicuramente un dato molto interessante, oltre che essere probabilmente un po' un simbolo della new generation della pallamano italiana che ci ha portato anche, tra le altre cose, ai campionati mondiali. E tu, come anche tuo fratello Marco, perché poi c'è questa particolarità che noi abbiamo i gemelli men gone, io ho imparato ormai a riconoscervi in telecronica, non vi faccio più problemi, però c'è sempre la particolarità dei gemelli che è sempre una cosa particolare. Di quanto vi sentite, visto che adesso siete uno in Germania e l'altro in Francia? No, beh, per sentirci ci sentiamo regolarmente, direi quasi ogni giorno, alla fine una chiacchiata, dieci minuti, non è che poi abbiamo questo rapporto, insomma, è così. Però vi siete abituati a stare uno lontano dall'altro? Sì, abbiamo già fatto, beh, per me era tre anni in Francia dove eravamo separati, quindi già non avendo la famiglia e, insomma, non avendo nessuno l'altra, né amici con un paio di squadra, ti porta a sentirti più spesso alla fine con i tuoi familiari, nel mio caso con mio fratello anche, in particolare. Ma parlate di pallamano quando vi sentite o siete, avete il rifiuto quasi, vivendoci sempre in mezzo? No, beh, ovviamente facciamo pallamano tutti i giorni, è il nostro quotidiano, quindi ovviamente ci capita di parlare di pallamano, però cerchiamo anche di svagare un po', di parlare un po' di tutto, della vita in generale, insomma. Tipo di fidanzate, visto che Marco, che vuole fare lo spiritoso, sui social ha chiesto se ti sei fatto la fidanzata in Germania, te la sei trovata? Ah, lo spiritoso. Te la sei trovata, se la fidanzata in Germania? No, non è il caso, non è il caso. Non è il caso. Ma com'è questo posto? È un paesino, è... No, è un paesino più che altro piccolino, c'è Erfurt, ha un'ora di distanza che è abbastanza grande, dove anche tra l'altro qua vicino gioca Anika e Niederweiser, se no dopo non c'è tanto tanto nei dintorni. Quindi allenamento e... Pallamano, pallamano e pallamano. Vabbè, però, immagino che tu sia abbastanza a tuo agio. E quando vi rivedete con Marco, non lo so, c'è una cosa che vi piace fare, cose che fate... Una cosa che magari vi lega, che vi tiene uniti, che facevate da bambini. Immagino allenarvi anche senza pallone, fare esercizio fisico, però no, no, se ci sono delle cose magari che, soprattutto adesso che vivete uno lontano dall'altro, vi piace fare poi quando siete in Trentino, quando siete a casa. Andare a farle mangiatone, i cheat meal, come si dice? E' differente quando ci vediamo in nazionale, ovviamente l'ambito è sempre pallamano, quindi sempre focus pallamano e tutto. Quando invece durante le vacanze, oppure che lui è a pausa, per esempio, è venuto qua a Eisenach una settimana e mezzo fa, abbiamo passato un po' di tempo assieme, giocato a carte, le solite robe, insomma. A proposito di carte, Arceri chiede quanto ruba tuo fratello da uno a dieci? Arceri e Nacelli non sanno perdere, è incredibile. Abbiamo qualche esemplare nazionale che gioca a carte, che prova veramente tutti i modi per barare, è incredibile. Ma perché siete in squadra e tu e tuo fratello siete a stile? Sì, giochiamo a 3-7, briscola, scopa, 2 contro 2, sì. E ovviamente chi perde, come si dice, muve perdono, che non perdono bene, insomma. Ah, ok. E Arceri perde male, quindi, di solito. Arceri perde sempre e male. Ok, 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 molto bene. Allora, dicevamo della Bundesliga, quindi dicevamo, siccome questa è la cosa su cui sono arrivate le maggiori domande, c'è maggiore curiosità, intanto come ti sei ritrovato, visto che tu e tuo fratello nascete sportivamente nel Pressano, quello che ha vinto, c'è stato un momento in cui vincevate tutti gli scudetti giovanili dall'under 12, non lo so, fino a quando non avete finito le categorie, poi vi vedono, andata nell'Accademia del Montpellier, e da lì avete poi iniziato un percorso anche diverso l'uno dall'altro. Anche tu però eri in Francia come lui, com'è nata questa opportunità di andare in Germania, e poi come ti sei ritrovato in Bundesliga, perché poi la Bundesliga è l'NBA della palla a mano, no? È il campionato dei sogni, se vogliamo. Sì, sì, tra l'altro qua continuo a ripeterlo da tutte le parti, la liga più forte del mondo, giustamente. Loro non mancano mai di dirlo, effettivamente lo scrivono dappertutto, sì, sì, è vero. No, come mi sono ritrovato qua a Eisenach, è una bella storia in verità, perché sette anni fa allora, quando abbiamo fatto i provini a Montpellier, lo stesso anno io e mio fratello avevamo fatto un provino in Germania anche, in una squadra due ore da qua, e solo che alla fine era una squadra di seconda divisione, mi pare così, però alla fine ovviamente abbiamo scelto di andare a Montpellier, e due anni fa allora, quando stavo cercando una squadra per cambiare, avevo un call manager, insomma, ho ritrovato questo manager della squadra di quando era andato a fare il provino, che adesso è l'attuale manager generale di qua a Eisenach, e che mi ha riconosciuto e così, e quindi abbiamo parlato, abbiamo parlato di tutto, e poi, insomma, con l'alleatore il sistema di gioco era ideale per me, e quindi è stata fatta, insomma. Ok. Ma non erano in Bundesliga, tu, quando tu hai firmato? Erano in seconda divisione, e poi sono saliti in prima divisione, lo stesso anno come Ballingen, la squadra di Leal. E tu sapevi di andare in una squadra di seconda Bundesliga, o cioè è stata una sorpresa la promozione, loro se l'aspettavano, ti sei quasi ritrovato in Bundesliga? Sì e no, perché ho firmato, cioè, non abbastanza presto, però è stato febbraio-marzo, e erano secondi in quel momento, quindi sarebbero saliti, però il campionato era ancora lungo, e quindi non avevo certezza, però il loro obiettivo era quello, e alla fine, colpo di culo, diciamo. Vabbè, certo. Vatti in Bundesliga. Ma vabbè, ci vuole pure quello, serve anche quello. Come si svolge la giornata di un giocatore di Bundesliga? Vogliono tutti sapere questa cosa qui, cioè che cosa fai, o comunque la settimana, perché magari poi la giornata, ecco, questa è una giornata in cui stamattina fai il podcast, e poi stasera ti alleni, immagino, però in generale, la settimana di un giocatore del campionato di pallamano più importante del mondo? Beh, le settimane variano molto, perché possiamo giocare dal lunedì alla domenica, veramente, tutti i giorni, quindi ovviamente se giochi il venerdì magari hai il weekend libero, se giochi la domenica è altro, differente, così, però in generale abbiamo quasi sempre due allenamenti al giorno, che sia pallamano e palestra la mattina, o palestra la mattina, e poi sempre pallamano il pomeriggio, e poi se no, soprattutto in questa squadra abbiamo molte riunioni, video, molte per la testa, per la mentalità e così, e quindi ci prende anche questo molto tempo, e poi la sera cerchiamo due o tre volte magari la settimana, ci troviamo con quelli della squadra, andiamo a mangiare fuori e stiamo un po' in squadra, però il tempo libero ce l'abbiamo un po' la sera, diciamo. Ok, ok, e invece c'è una cosa, per esempio, parlando, se parliamo di basket, no, si parla sempre quando si parla di NBA, c'è questa espressione, il trash talking, che è magari una cosa che si apprende, si vive in prima persona quando si arriva a giocare a quei livelli lì, c'è una cosa che quando ti sei ritrovato ad arrivare in Bundesliga, dici, ah, questa cosa nell'altissimo livello funziona così, non lo so, ci sono delle cose magari di spogliatoio, delle cose che sono un po' diverse dalle categorie giovanili, diverse da quello che vivevi in precedenza, o se hai trovato, per esempio, già poche differenze da passare dall'Accademia di Montpellier alla Bundesliga? No, è totalmente differente, uno perché l'Accademia di Montpellier era più che altro fatta per migliorarti come giocatore e come individuo, insomma, qua invece già essendo in Bundesliga l'obiettivo è vincere, è mantenersi, l'obiettivo è vincere le partite, quindi la questione di tutti gli allenamenti, la mentalità di come ti alleni, di come giochi è tutta diversa, insomma, è molto più incentrato sulla squadra, sulla vittoria collettiva, insomma, poi quando la squadra vince ovviamente anche tu, cioè, ogni persona riceve la sua parte di merito, grande o quale che sia, insomma, però qua in Bundesliga soprattutto la preparazione delle partite, gli allenamenti, è tutto più intenso, insomma. C'è pressione? Cioè, si avverte, non so, essendo un campionato molto seguito anche da un punto di vista mediatico, da un punto di vista di pubblico, poi la pallamano in Germania è uno sport veramente seguito forse solo in Francia negli ultimi anni, si segue la pallamano come si segue in Germania, ma in Germania grandissima tradizione, c'è pressione attorno alla squadra, attorno ai giocatori, media, non so, ecco, come… No, 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 la pressione c'è sempre, sì, anche adesso che siamo all'inizio del campionato, la pressione c'è sempre, però ha i suoi lati positivi e negativi, per esempio qua nella città di Asina, che non è tanto grande, tutti ci conoscono e è anche bello quando la gente ti saluta, ti ferma per strada, ti chiede… quindi, insomma, c'è il suo lato positivo e poi ovviamente bisogna performare, bisogna la performance, ovviamente se quando perdi al weekend l'atmosfera… Non ti salutano per strada. Non ti salutano per strada, certo, però fa parte dello sport, insomma. Beh, certo, certo, è chiaro. Bundesliga vuol dire anche, come dicevamo, tanto pubblico, palasport, arene spettacolari, ce n'è una dove ti sei ritrovato a giocare l'anno scorso e sei rimasto… mamma mia. No, più di una, più di una. Se devo dirne una, l'anno scorso è stata una delle prime trasferte a Berlino, con il controfuscio Berlin e il palazzetto… non conoscevo ancora tanto bene questo… giocare contro così grosse squadre in Bundesliga e così mi ha veramente colpito per la pressione, poi 10.000 persone, così… Quella volta e poi adesso ci sono un po' più abituato, però è bello. Anche qua Esenac abbiamo… non è così grande, abbiamo 3.000 persone, però fanno un casino bestiale. Beh, certo, immagino. E c'è qualche super giocatore contro il quale hai giocato che… non lo so, magari con cui sei entrato un po' in confidenza, con cui hai avuto modo di parlare un pochettino nel tunnel, nel riscaldamento, non lo so, ecco, qualche cosa che ti è capitata di particolare? Sì, giocatori che magari conoscevo già da Montpellier, per esempio Nicola Portner, che insomma ho avuto l'occasione di parlarci un po'. Poi quest'anno in squadra abbiamo Silviani Vetter, che è stato un portiere da Natsaic. Super personaggio, tra l'altro, lui. Super personaggio, e che quindi ha l'occasione di parlarci un po' tutti i giorni, sì, si imparano cose, sì. Ma lui com'è? È come in televisione? Cioè è sportivamente matto? No, non più, non più, diciamo. Poi credo che sicuramente non in allenamento, non così, dopo in partita la pressione, l'adrenalina, un po' come quella di tutti. Sì, però all'allenamento no. C'è qualcosa che ti manca dell'Italia? Una cosa che... Beh, se non dicessi il cibo, ovviamente. Poi, essendo qua, sì, la vita, un po', parlare italiano anche, parlare italiano tutti i giorni quasi, ho trovato un paio di italiani con cui mi trovo ogni tanto per parlare così, perché è sempre bello, però dopo, sì, il cibo e un po' tutta la vita. Ah, c'è una comunità di italiani lì o sono solo, insomma, questi pochi che conosci tu? Comunità no, non direi. Poi mi conosco tre, quattro abbastanza bene, poi gli altri, quando vai a mangiare in ristoranti italiani, trovi sempre italiani così e riesci a parlarci un po'. Ok, e devo dire che te la stai cavando bene, pensavo... stai riuscendo a smentire quella brutta nomea che ti hai rifatto sulle interviste. No, invece della Francia, perché tu hai vissuto un periodo di tempo consistente anche in Francia, quindi sicuramente è stato un capitolo importante della tua vita, c'è qualcosa che ti manca della Francia, qualche abitudine che avevi preso, qualcosa che ti piaceva particolarmente? Ah, la Francia, beh, ho vissuto sei anni, tre a Montpellier, tre a Pau-Bier, e diciamo che ho sempre vissuto in bei posti, perché tutti e due nel sud della Francia, a Montpellier, che è una bellissima città, e poi tre anni vicino alla Spagna, quindi un po', quindi la vita un po' anche influenzata dalla parte spagnola e così, erano veramente bei posti, poi vicino al mare e tutto, quindi la vita direi in generale, poi no, mi sono anche un po' affezionato alla Francia, insomma, però sono contento anche della scelta di essere venuto qua per la pallavano, sicuramente non ho per niente rimpianti. E invece c'è una cosa che non ti piace proprio dalla Germania? Dalla Germania? Da italiano, beh, sì, dello stile di vita, eh, dico. Per la pallavano immagino che sia un Luna Park, poi so che tu sei super focalizzato, però magari qualcosa... Ma no, dai, la vita all'inizio era un po' difficile, la lingua anche non delle più facili, quindi i primi mesi difficili direi, i primi mesi difficili, però una volta che ti fai dentro, una volta che inizi a parlare, che è la cosa più importante, di bene in meglio, dai. Perché poi tra l'altro chi non conosce, sai, tu sei di Trento, chi non è del nord Italia magari, quindi non conosce bene le vostre zone, e dici, ah, questo è di Trento, tedesco, e invece no. Invece no, per niente no, no. Poi, no, è vero che studiamo tedesco a scuola, però dopo, per esempio, ho fatto sei anni in Francia e avevo praticamente tutto dimenticato, quindi... Quindi no, abbiamo un piccolo vantaggio, quello sì, però non siamo... Certo. Esatto. E con le interviste in tedesco? Eh, ne ho fatta già qualcuna l'anno scorso. Penso tu. Quest'anno neanche ancora no, ma arriveranno. Forse più in tedesco che in italiano. Eh, in tutti e due. Perché non ne vuoi mai fare in nazionale. Dai fan ti chiedono se ti saresti mai, se avresti mai immaginato di ritrovarti dove sei adesso, ecco, appunto, sempre in Bundesliga, sempre in questo... Ma non solo in Bundesliga, poi anche ai mondiali con la nazionale, perché anche quello è una cosa importante. Beh, le ambizioni, le ambizioni sì, ce le ho sempre avute. Ognuno deve avere le proprie ambizioni, insomma. Però, essendo concreto, no, non avevo mai immaginato di essere qua in Bundesliga a giocare con... Era un po' un sogno, sì. Un sogno di carriera, un sogno di vita, uguale con la nazionale. Era il nostro obiettivo, però sapevamo che era difficile e tutto. Abbiamo lavorato parecchi anni e alla fine siamo dove siamo ora. Ok. E siccome agli occhi un po' sia degli appassionati, ma poi lo posso confermare perché vi ho visti tante volte sia da quando ho giocato alle giovanili, tu e tuo fratello siete un po' due robottini, nel senso super mentalizzati sulla pratica sportiva, quindi i primi di arrivare, gli ultimi ad andarsene, defaticamente, tutto quello che c'è da fare, tutto quello che deve fare uno sportivo, insomma, di alto livello. Avete un idolo, anzi hai tu, ecco, perché stiamo parlando con te, un idolo sportivo non solo nella palla a mano, quindi mi riferisco, per esempio, un grande simbolo da questo punto di vista è stato Kobe Bryant, no? Faccio un esempio. Quindi, magari, qualche simbolo sportivo a cui sei legato per la dedizione, per l'impegno nella pratica sportiva, che va oltre il talento, credo. No, un simbolo uno a uno in particolare, no, poi mi è capitato di leggere parecchi libri, mi interessa parecchio, tipo Kobe Bryant, Lebron James, di palla a mano, anche questo Lala Sinistra, Kresnak, del Magdeburg. Mi è capitato di leggere parecchi libri e quello che si ritrova sempre è che più investi nello sport, più investi nel lavoro che fai e più risultati hai, più possibilità degli altri, insomma. Quindi è anche per questo un po' che il nostro motto è quello sempre di fargli più perché metti le possibilità dalla tua parte e non avrai rimpianti, insomma. Certo. Bel messaggio. Tu, ecco, dicevamo sempre del fatto che tu e Marco siete cresciuti sportivamente per un lungo tempo assieme, poi c'è questa particolarità che non siete arrivati in Nazionale Seniores insieme. forse è stato il primo punto di, non di rottura, ma di divisione dei vostri cammini, nel senso che tu sei arrivato leggermente dopo di lui, forse una stagione dopo, non so, più o meno, all'incirca. Più o meno, sì. Poi quei tre anni che abbiamo fatto Montpellier abbiamo avuto un po' di infortuni, soprattutto io, devo dire, dove per un motivo o per l'altro durante la stagione ho avuto tre infortuni, per esempio, e anche per quello probabilmente che mio fratello è arrivato la prima e poi c'è stato un pezzo dove io c'ero, mio fratello è infortunato, quello fa parte anche della vita degli sportivi, però sì, c'è stato questo annetto di differenza. E quando è arrivata poi la chiamata, che sensazione hai provato? Questa è una domanda che ti rivolgono dagli appassionati. Il sentimento di raggiungere un piccolo obiettivo, che non è l'obiettivo finale, ma è uno step che avevo in testa e ovviamente quindi ti dà quel riconoscimento che ti dà ancora più voglia di andare avanti, di giocare per la nazionale, è sempre stato uno dei momenti migliori nella mia vita di sportivo, insomma. Tra l'altro bello il fatto che poi voi vi siate ritrovati con tutta la generazione dei 2000-2001, quella generazione di cui si è sempre parlato benissimo, quasi tutti in blocco in questa nazionale seniors, perché è raro che così tanti giocatori di una selezione giovanile riescano ad arrivare poi uniti in nazionale seniors, quindi immagino che anche arrivarci, poi arrivare anche ai mondiali, oltre ovviamente all'aiuto di tutto il resto della squadra, sia una bella sensazione. Sì, ovvio, partiva tutto da quando avevamo 14-16 anni, poi il gruppo era quello, avevamo un bel gruppo, e quindi arrivando a questi risultati con alcune, con sempre, appunto come hai detto te, abbastanza persone, 5-6, rende ancora il tutto, tutto ancora meglio, insomma, perché sono amici già da paicchio tempo, e lottiamo insieme, insomma. Avversari di carte. Tra l'altro. Avete fatto uno scherzaccio a Branko Dubnic, che è stato il vostro allenatore, no, lui è montenegrino, quindi battendo il Montenegro. Sì, sì, era venuto anche a fare l'intervista, la telecronaca, quando abbiamo giocato a conversare in casa, no, era contento per noi, poi ovviamente, essendo montenegrino, voleva vincere. Vabbè, certo. Inevitabile. Tu, con chi sei in camera in nazionale? Con Marco? Può essere, sì. Di solito, di solito. No, la domanda è, con chi eri la sera prima, la notte della qualificazione, quindi se c'è qualche cosa, sai, io non so se avete dormito tanto quella notte, se vi siete detti, se ci sono delle cose magari che si possono raccontare, delle sensazioni di quella notte lì. De Negro? Sì. Ah, è il Montenegro con mio fratello, sì, sì. No, ultimamente è vero che, di solito era con quell'Eluori, ma adesso siamo io e mio fratello, di solito, e la notte, come avete già parlato con Jack, non è durato tanto, a luna, purtroppo siamo... No, la notte prima ti sto chiedendo, poi la notte dopo. Sì. La notte prima si cerca di andare a dormire presto, perché dopo, si sa che non riesce a dormire subito, perché l'adrenalina si inizia già a sentire. Insomma, cerchi di parlare, cerchi di parlarne di quello che provi, così, però siamo tutti nella stessa situazione, quindi ci capiamo a vicenda, e... No, la notte dopo, poi a luna si era in pullman. Sì, sì, la notte dopo era corta corta. Quindi... Troppo. Poca possibilità di fare grande Baldoria, in effetti. Ti dicono pure se vieni a Cassano. No, non vai a Cassano, per il momento no. Però Tifi Pressano, immagino, in Serie A. Sì, sì, certo, ovviamente. Ovviamente. Immagino. Allora, adesso siamo arrivati quasi nella parte finale, quindi volevo fare un primo gioco con te, che si intitola Non ho mai. Quindi io ti dico delle cose, e tu mi dici se le hai fatte o non le hai fatte. Sono cose panamanistiche, quindi non... Tranne una, forse. Allora, se hai mai colpito in faccia il portiere? Sì, certo. Partita? L'ultima partita mi è capitato. Sì? Sì. Chi era il portiere? L'anno scorso giocava a René Karloven, adesso è a Lannover, non mi ricordo il nome adesso. Ok. Se hai mai simulato un fallo, un fallo subito, eh? È difficile nemmeno la mano simulare. Però magari qualche rigore urlando. Magari, accentuare magari. Può essere ancora capitato, sì. Ok. Se ti è mai capitato di non ascoltare l'allenatore durante il time out? Cioè di essere assente? Un time out è fatto per quello, quindi in generale si cerca di ascoltare. Però... No, direi che... Cerco, ho sempre cercato di ascoltare, insomma. Sei un secchione, Simo. Un secchione. Se hai mai fatto tardi la notte prima di una partita, se ti è mai capitato di arrivare alla partita, anche nelle giovanili, eh? Non mi riferisco adesso che sei un professionista, spero di no. Spererei di no, però magari... No, qualche volta, ma non troppo tardi. Non sono mai andato in serato o roba così, insomma. Confermo, secchione. Se tu e Marco vi siete mai scambiati in qualche occasione? No, una sola volta, diciamo, per esperienza, ma niente di troppo grosso. E non a pallamano, non a pallamano. Eh no, infatti voglio sapere... A pallamano no. No, 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 non a pallamano. No, a pallamano è difficile, però dico, non lo so, a scuola... A scuola una volta, sì. Per provare. Dovevamo... No, niente. È una lezione di ginnastica, un piccolo test. Io non avevo voglia di farlo, lui l'ha fatto al mio posto e niente. È passato liscio come l'olio. Davvero bellissimo questa cosa. Va bene. Ascolta, il tuo best seven... Ogni epoca, nel senso che puoi mettere tutto, quindi i tuoi sette dei sogni. Allora, devo dire, ho ascoltato quello di Jack e devo dire che mi ritrovo abbastanza in quello là, perché le ali anch'io metterei sicuramente a balò e... anche il game shimer. Uwe game shimer avrei messo. Per i terzini, terzino destro, giocandoci contro abbastanza spesso ho avuto l'occasione di Gitzel, di ammirare un po', diciamo, Gitzel e devo dire che secondo me è un giocatore in questo momento uno dei più forti, probabilmente. Terzino sinistro, avrei messo il tipico terzino tiratore, quello col miglior braccio, che ho sentito che tu non l'avresti messo, Michel Hansen. Ok. Devo dire che il Michel Hansen è a Danimarca, più che altro, non del Paris, della Danimarca, soprattutto. E centrale Karabatic metterei, anche centrale terzino, però per tutto quello che ha vinto... Nessuno mette Balic, comunque. Eh, ma anche per me non è stata un po' la mia epoca, devo dire che ho iniziato a guardare quando avevo 14 anni, quindi 2014 quel che era. Era già verso la fine. Da passato, sì, invece è proprio l'era Karabatic. Pivot tra Fabregas e Aguina Galde avrei messo anch'io quei due e in Porta Obeyé magari. Ok. Un altro francese, esatto. Eh, ci sta. Invece mi sono dimenticato di chiederti prima, stava quando parlavamo di Bundesliga, però era interessante questa. Il giocatore, però andiamo anche oltre la Bundesliga, il giocatore più bastardo contro cui ti è capitato di giocare, nel senso quello più rognoso, quello più fastidioso, quello che quando ci devi giocare contro dici mamma mia questo di nuovo. Un giocatore in particolare? Sì, fastidioso, non lo so, uno perché è un difensore che mena come un animale o qualcuno che non riesce a, quando sei in difesa tu, è ingestibile, dici questo non lo prendo mai, come mai? Che fastidio. No, più che altro, i difensori che a me come giocatore non piacciono sono quelli un po' alla spagnola, quelli che prendono e cercano sempre di fingere lo sfondamento, quelle robe là che adesso, devo dire, sta venendo sanzionato sempre di più, soprattutto anche qua in Bundesliga, quando fingi ti danno subito due minuti, però quei giocatori là, per esempio, questo weekend giochiamo contro Vezza, che c'è un giocatore che fa anche, fa quello e a me personalmente come attaccante, visto che vado sempre con molta velocità, mi fastidisce quel tipo di giocatore, insomma, un po' Samai della situazione, diciamo. Attenzione, il nome italiano. Salutiamo Possamai, grande possa. Grande possa. Numero uno. Va bene, Sivo, siamo arrivati alla fine, ne rimane una che è la trasferta da dimenticare, anche questa l'abbiamo inaugurata con Jack la settimana scorsa, quindi anche qui puoi attingere a tutte le trasferte della tua carriera, fino a Pressano, fino all'Under 12, però la trasferta che proprio hai odiato. La trasferta in Francia, è stata in Francia sicuramente, essendo nel sud-ovest sud-ovest della Francia abbiamo, avevamo per esempio cinque, quattro, cinque squadre tipo, quattro, cinque trasferte all'anno dove dovevamo dovevamo dodici ore di bus per arrivare su, verso dove giocava mio fratello, a Sarburgo, Strasburgo, così, e quella volta mi ricordo che il bus non c'era, siamo dovuti partire in minibus e in minibus dodici ore fanno sottile, soprattutto nel ritorno dopo la partita. si fanno vinta o persa che devo comunque rientrare quindi ebbè certo quindi ecco direi più che altro la lontananza bene grazie Simo è stato un piacere un piacere ciao Matteo e ciao a tutti grazie a Simone Mengonne grazie a voi che ci avete seguito l'extra player torna la prossima settimana l'extra player di questa settimana è stato Simone Mengonne che ringraziamo e buona palamora a tutti ciao